Ciao, siamo Lorenzo Federica della libreria Ubic di Frascati Ciao E per il consiglio del libraio proponiamo questo titolo Il quadrato dei sette di Laura Schiever Robinson È un romanzo intrigante che vede protagonisti un papà e una bambina che si guadagnano da vivere con la cartomanzia e un metodo molto particolare che è appunto quello del quadrato dei sette Un giorno i due incontrano in una locanda il signor Antrobus che interessato alle storie della bambina perché molto molto brava a raccontarle comincia a fare amicizia con entrambi e siccome il papà sente un po' arrivare la sua ora strappa una promessa al signor Antrobus chiedendogli appunto di crescere sua figlia come tutore e farla diventare una signora dell'alta borghesia in cambio gli avrebbe rivelato il segreto del quadrato dei sette E così il re della bambina diventa una signora diventa adulta ma non sa che alle sue spalle qualcuno trama per il segreto del quadrato dei sette Buona lettura!